Io lavoro per le aziende vinicole, tutti i miei clienti sono chiusi, chi è aperto non lavora. Vado in giro per non stare a casa, l'unica alternativa è questa. Mio figlio è a casa che sta facendo lezioni da casa. A questo punto sarebbe più sensato chiudere tutto, sospendere i pagamenti e sostenerci fino a quando si potrà riaprire. Così non ha senso, è illogico. Io mi trovo bene per ora perché comunque si può fare tutto, lo ritengo giusto. Anzi, penso che la gente dovrebbe essere più responsabile e cercare di stare sempre più attenti. Anche perché ci siamo ormai abituati ad una vita diversa, per cui si sta a casa, si fanno tante cose, pazienza. Bisogna essere tutti, sacrificarsi tutti un po' e cerchiamo di uscirne fuori. È giusto, mi sento più sicura così. È difficile ma io ho capito che per tutti gli italiani e anche per me che sono straniera, ma sto qui come studentessa e mi sento sicura con tutta la lezione online. Sto felice con questa decisione, sì. Grazie. Grazie.